un cordiale saluto agli ascoltatori di cittago radio nell'edizione di oggi parliamo di terminal bus portasusa di contemporary art di biglietto integrato metropolitano di commemorazione dei defunti terminal bus sarà pronto per dicembre il nuovo terminal bus di corso bolzano accanto alla stazione di portasusa di cui partiranno i bus diretti a molti comuni della provincia per gli aeroporti di caselle malpensa mentre quelli a lunga percorrenza si attesteranno nei pressi di torino stura luogo di interscambio tra tangenziale autostrade servizio ferroviario metropolitano linea 4 ed altre linee di mezzi pubblici terminate le opere di competenza della città si è provveduto alla sistemazione della cartellonistica e si sta realizzando il chioschetto di accoglienza contemporary art al via l'edizione 2015 di torino piemonte contemporary art rassegna di arti contemporanee figurative e non solo giunta la nona edizione autunnale un denso programma con artissima 2015 all'oval del lingotto paratissima undicesima edizione a torino esposizione the others alle ex carceri nuove poi la notte dell'arte contemporanea 7 novembre con apertura straordinaria di musei e gallerie 35 mostre sul tema della contemporaneità 4 festival musicali workshop per i bambini 40 gallerie d'arte con spazi open e sabato 31 ottobre si accendono ancora le luci d'artista con qualche novità tra le quali un'installazione di piero gilardi sul tema delle migrazioni allestita in galleria subalpina che arricchisce la collezione permanente per il programma www.contemporari torino piemonte.it biglietto metropolitano approvata dal consiglio comunale una mozione con la quale la sala rossa chiede l'impegno della giunta ad ampliare l'estensione del biglietto integrato di corsa semplice dei mezzi di trasporto pubblico su tutta l'area cosiddetta formula il documento chiede che il biglietto sia progressivamente esteso all'intero territorio della città metropolitana di torino coerentemente con l'adozione del sistema tariffario zonale della regione piemonte attualmente il biglietto integrato è disponibile sottolinea la mozione per la prima e seconda corona metropolitana ma esclude tutti i territori della città metropolitana più esterni commemorazione dei defunti in occasione della festa di ogni santi della commemorazione dei defunti i cemiteri di torino fino a domenica 8 novembre saranno aperti con orario 8 e 30 17 30 dopo la chiusura di lunedì 9 novembre entrerà in vigore l'orario invernale 8 e 30 16 e 30 confermati due appuntamenti per le funzioni religiose celebrate dall'arcivescovo domenica primo novembre al cimitero parco e lunedì 2 novembre al monumentale sempre le 15 e 30 lunedì 2 novembre inoltre le autorità cittadine si recheranno in corteo presso alcuni luoghi significativi del cimitero monumentale come il cipo della deportazione il campo della gloria o il mausoleo dei caduti sul lavoro ritrovo alle nove presso la cappella l'ingresso principale di corso novara nel weekend la quindicesima rassegna ricordar cantando momenti musicali con coristi e musicisti sabato 31 ottobre alle 11 presso il cimitero monumentale e alla medesima ora presso il porticato del cimitero parco domenica primo novembre invece sono previsti gli appuntamenti musicali nei cimiteri suburbani abbadia e cavoretto alle 11 sassi alle 15 e 30 tutte le informazioni su www.cimiteritorino.it l'edizione di oggi è stata redatta da federico d'agostino e claudio raffaelli direttore remo guerra